amici di milan.soccer eccoci buongiorno buongiorno rosso nero il giorno dopo è ancora più bello milano è ancora in europa ovviamente come sempre grazie al milan dunque prima di cominciare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale qui sotto farlo è semplice ed è gratuito mettete un like un pollicione a questo video e soprattutto state con noi tutto il giorno perché adesso questo video così un po per prendere il caffè si va un po a lavorare perché il lavoro è quella cosa che si inserisce in maniera a volte fastidiosa tra una partita e l'altra tra un sorteggio e l'altro sì perché oggi faremo una diretta per il sorteggio dei quarti di finale della euro league europa league coppa uefa chiamatela come preferite dunque dopo avervi ricordato queste piccole cose se volete rimanere sempre con noi vi ricordo anche di attivare la campanella arriviamo al dunque adesso le cose si fanno un po più serie il milan e milan rischia beh non voglio andare come dire nel dettaglio di quelle che possono essere le soluzioni perché lo faremo nel video di mezzogiorno e poi alle 13 andremo con la diretta per i sorteggi forse questa mattina il secondo video non uscirà a mezzogiorno uscirà un il milan dunque elimina lo slavia praga quanto valgono i quarti di europa league ora lo vedremo ieri intanto ha parlato furlani era molto tranquillo era molto sereno era in tribuna con slatan ibraimovic e anche con dottavio insomma c'era un po il gota rosso nero a guardare la partita ci sono delle cose che personalmente non mi sono piaciute perché è vero il milan ha fatto poco più di un allenamento però quello che davvero non mi è piaciuto è la gestione della panchina e poi anche questa faccenda che riguarda i cartellini gialli voglio dirvi già nel video di ieri l'ho fatto il cartellino giallo a tomori potevamo evitare questo cartellino giallo era il 43esimo stavamo 2 a 0 il milan era in totale controllo a quel punto i gol di vantaggio erano 4 e quindi il giocatore poteva essere risparmiato era in diffida con la munizione salterà la prima partita dei quarti di finale un problema perché i centrali di difesa lo sappiamo hanno rappresentato il nostro punto debole anche se in questo momento sembrano un po essere rientrati tutti ma alla forma fisica per poterla recuperare ci vuole un po di tempo e poi quel totale inutile cartellino giallo di leao alla fine leao è un po nervoso si è reso conto ma andare a protestare quando ti hanno espulso un giocatore dello slavia all'andata un giocatore dello slavia al ritorno l'ambiente era molto caldo è chiaro che prima o poi avrebbe cacciato un cartellino giallo se non rosso per rasserrenare gli animi e così leao si è regalato come dire questo cartellino giallo inutile speriamo che non sia un cartellino giallo che ci precluda qualcosa nel prosieguo del nostro percorso quindi proseguirà con i quarti di finale per il milan il percorso in europa league i rossoneri sono dunque approdati nella seconda competizione europea dopo lo ricordiamo essere stati eliminati in champions league dalla fase dei gironi penso che non possa ripetersi una fase gironi così complicata per cui il milan è uscito davvero per niente quindi da un certo punto di vista più o meno siamo alla pari con altri che invece sono usciti direttamente ieri eccetera eccetera insomma quanto vale in termini di ricavi questo passaggio il milan ha portato a casa 6,6 milioni di euro e potrà dunque crescere con la qualificazione alle semifinali 6 milioni virgola 6 il passaggio del turno in particolare market poll 3,1 milioni di euro bonus playoff 0,5 milioni di euro bonus ottavi di finale 1,2 milioni di euro bonus quarti di finale 1,8 milioni di euro per un totale di 6,6 milioni di euro adesso però come dicevo per il milan si fa dura è vero dobbiamo sempre tener presente che cosa che non abbiamo incontrato le primissime della classe il milan un po diciamo rischia c'è non voglio parlare di questo perché lo farò nel prossimo video però insomma basti pensare allo stesso liverpool che ha battuto l'altra squadra di praga per quattro reti a uno a fine partita poi ha parlato pioli era soddisfatto anche se si leggeva tra le righe che ha commesso un errore nella gestione della squadra però il problema non è tanto quello quanto l'atteggiamento del milan chi segue il milan lo sa noi i primi 20 25 minuti non abbiamo praticamente mai giocato loro sono stati eccessivamente aggressivi e poi fino a quando il risultato non è stato messo in cassaforte non c'è stato quell'agonismo quel modo di agire che ti fa sembrare questa squadra forte e io però mi chiedo nel momento in cui tu sei seconda in campionato e comunque sei con gli stessi punti uno più uno meno rispetto all'anno dello scudetto nel momento in cui comunque stavi per passare un girone di champions league il più difficile probabilmente della storia nel momento in cui tu comunque vai a vincere 3 a 1 in uno stadio dove la roma perso 2 a 0 e segni sette gol per tre dei quattro tempi che hai giocato contro lo slavia praga perché il secondo tempo di ieri il milan non l'ha praticamente giocato ha fatto un allenamento fuori porta fuori da milanello allora mi chiedo ma quanto può essere forte questo milan con questo allenatore quello che manca oggettivamente e il mordente cioè manca l'agonismo manca la fisicità ecco e poi in determinati frangenti alcuni giocatori su tutti teo ernandez e leao sembrano perdersi per poi riaccendersi in modo clamoroso e fare la differenza perché quando giocano decidono di giocare vogliono giocare sono giocatori al di sopra della media che risolvono la partita ma quanto vale questo loro atteggiamento cioè quanto sentiamo la mancanza nei restanti non lo so vogliamo dire 70 minuti ecco io penso che per un terzino sinistro teo che in fase difensiva comunque ha delle grosse lacune e soprattutto considerando che ho visto in altre squadre che non cito però attaccanti essere anche centrali di difesa un leao che non torna un girù che non torna noi non possiamo responsabilizzare più di tanto la difesa perché il centrocampo è in forte difficoltà perché quest'anno parliamo sempre della difesa e parliamo dell'attacco però il centrocampo non aiuta di certo la difesa quindi bisognerà capire esattamente se il milan fosse più corto se il milan avesse un mordente diverso quanto potrebbe essere più forte vi giro questa domanda vi faccio passare una buona mattinata ma ci vediamo tra un po' con il secondo video e poi alle 13 con la diretta da neon è tutto ciao ciao